Non c'è un caso Toscana perché purtroppo dall'inizio dell'anno, fonte nazionale, i dati dicono che si sono spiaggiati in tutta Italia circa 120 esemplari, di questi 27 in Toscana, ma in maniera simile a noi sono interessate le coste di altre due regioni, in particolare Lazio e la Sicilia. Noi stiamo seguendo ormai da mesi, da quando si è intensificato il numero degli spiaggiamenti con l'osservatorio toscano sui cetacei e con l'attività importantissima che ARPAT fa insieme alle università che ci supportano nell'osservatorio, questo fenomeno e soprattutto stiamo cercando di capire quali sono le cause. Che ad oggi, ragioniamo ovviamente ancora d'ipotesi, la più accreditata sembra essere un morbillo che ha colpito alcuni di questi esemplari, tra l'altro molti di questi arrivano nelle nostre coste, sulle nostre spiagge, già in stato avanzato di decomposizione, quindi a dimostrazione che la causa della morte è remota rispetto alle spiagge dove poi le carcasse vengono rinvenute. Ovviamente su questo fenomeno è in corso anche un'attività da parte del Ministro dell'Ambiente e delle università che da anni seguono questo fenomeno, per cui noi il 16 dovremmo presentare nell'osservatorio toscano dei cetacei le risultanze dei campionamenti che sono stati eseguiti per capire ancora meglio le cause di questo fenomeno. Fermo rimanendo, noi siamo una regione che da oltre cinque anni ha insediato l'osservatorio toscano dei cetacei e quindi è in grado anche di avere una serie storica di questi fenomeni, con l'università in particolare quella di Siena che ci sta supportando e che ha fatto anche interessanti ricerche a livello nazionale, ma in più, come dire, dopo le vicende Concordia e fusti dell'Aurocargo Venezia ci siamo anche spinti ovviamente oltre quelle che sono le nostre strette competenze, perché non dimentichiamoci, noi facciamo costantemente il controllo della qualità delle acque marino costiere, ma i fenomeni che interessano i nostri mari sono fenomeni che hanno cause e con cause che si verificano in alto mare e quindi su quali le competenze delle regioni non ci sono. Da qui la necessità, fin dallo scorso anno, al verificarsi in questi due episodi, di coinvolgere direttamente il Ministro dell'Ambiente, ma anche la stessa Unione Europea, perché non dimentichiamoci che questo fenomeno dello spiaggiamento si sta verificando nel Mediterraneo occidentale. Il Mediterraneo è un mare particolare perché è intensamente trafficato e quindi c'è bisogno che rispetto a quello che accade in questo mare l'attenzione sia altissima da parte dell'Unione Europea, degli Stati membri, e quindi poi ovviamente su input e riflesso anche da parte delle regioni. A noi competono tante altre cose, tutte le attività che si fanno in terraferma, quindi una buona qualità delle nostre acque dipende anche molto da quello che si fa in terraferma, la depurazione e tutte queste attività strettamente connesse alla qualità delle acque marine. Però non c'è un problema di qualità delle acque marine in Toscana, è un fenomeno che ha quello degli spiaggiamenti. Quindi cause sicuramente più remote che noi stiamo cercando di indagare perché abbiamo uno strumento che ci permette di farlo e il 16 faremo, dopo la riunione dell'osservatorio toscano dei Cetaci, una conferenza stampa in modo da rendere noti i dati che anche l'Università di Padova a livello nazionale sta facendo. Lì troviamo tra i principali esperti di spiaggiamenti in Italia e quindi noi siamo già in contatto con loro per avere ulteriori delucidazioni in modo da fornire anche informazioni corrette all'opinione pubblica.